come noto le cuffie sono forse il mio principale strumento di lavoro certamente lo sono state per tutta la lunghissima e ricca prima parte della mia carriera anche e soprattutto come sound engineer conto terzi come musical and executive producer per le principali etichette di musica classica del mondo perché dico questo perché inevitabilmente la musica classica ancora oggi si continua a registrare fuori dagli studi di registrazione e quindi in ambienti naturali tipicamente teatri auditorium ma anche ville chiese e tutti quegli spazi acusticamente adeguati al programma sonoro da proporre in questi casi è francamente poco produttivo foriero di perdite di tempo sostanzialmente portarsi appresso dei cosiddetti monitor aperti dei diffusori monitor per controllare quello che si sta facendo per mille un motivo che non staremo qui oggi a spiegare e quindi la cuffia diventa veramente un oggetto determinante io ho utilizzato tantissime cuffie fino a stabilizzarmi ormai da molti anni con l'utilizzo principale delle cuffie bayern dinamiche e in particolare il mio riferimento assoluto la t1 mark 2 ma la cuffia con cui ho iniziato formalmente ufficialmente il mio lavoro di sound engineer a metà degli anni 90 era una sennheiser hd 600 e quindi questa cuffia rappresenta una memoria storica importante per cui era da un po di tempo che avevo deciso di tornare ad acquistare una cuffia sennheiser di quella serie specifica lì e non già ad esempio la serie 800 successiva e blasonatissima e se vogliamo confrontabile direttamente con la mia t1 mark 2 bayern dinamiche no io volevo andare a cercare quelle sensazioni che mi hanno portato a realizzare alcune registrazioni che ascoltate oggi ritengo ancora essere fra le mie migliori di sempre ecco quindi che mi sono consultato sul web inevitabilmente poi parlando col carissimo amico francesco donadel campbell massimo esperto di cuffie in italia secondo me oggi e ho identificato nel modello hd 6 e 60 s 2 la cuffia da considerare da acquistare e come al solito ho cominciato a prendere informazioni con un certo stupore ho notato in rete una parte importante di appassionati che parlano male di questa cuffia che proprio la disprezzano addirittura per certi versi con un campionario di giudizi dai più morbidi ai più duri fino a proprio coloro che dicono l'ho comprata e l'ho anche restituita devo dire che a questo punto l'utente distratto diceva bene questa non è una buona cuffia ma evidentemente nel mio caso invece queste critiche hanno stimolato ancora di più la mia curiosità curiosità che ha trovato compimento qualche tempo fa quando sceso in una delle mie rare discese verso l'italia nel bellissimo negozio di alta fedeltà a calco dell'amico alfredo terenghi ho visto dentro una bacheca tutta una serie di hd 6 e 60 s 2 una sorta di segno del destino e quindi ho chiesto subito ad alfredo di farmela sentire un attimo con calma per farmi un'idea ed eventualmente ipotizzarne l'acquisto così è stato e l'acquisto si compie e quindi già credo che avete un primo parere deduttivo sulla mia opinione relativamente a questa cuffia ma procediamo con ordine allora la cuffia hd 6 e 60 s 2 della sennheiser si colloca in una fascia decisamente combattuta di prezzo cioè attorno ai 500 euro oggettivamente il prezzo di listino con cui venne presentata mi pare fosse 595 euro e oggettivamente si trattava di un prezzo decisamente troppo elevato nella fascia dei 500 euro poco meno invece decisamente si può collocare e trovare una sua identità plausibile anche se devo dire ponendosi al massimo del prezzo possibile per una cuffia di questo tipo io in particolare l'ho pagata 400 euro più iva laddove per noi professionisti questo è importante da esprimere già che l'iva entra in una partita di giro ovvero nel costante bilanciamento fra iva spesa e iva incassata ma questo discorso meramente commerciale comunque per noi è importante il concetto del prezzo al netto di iva che per l'appunto per me è stato di 400 euro sottolineo tutto questo aspetto per spiegare bene che io questa cuffia l'ho scelta l'ho vista l'ho ascoltata e l'ho comprata pagandola cioè non mi è stata data in prova da nessuno e non devo rispondere a nessuno per quello che dico quello che dico è frutto della mia opinione per carità discutibile ma certamente la mia opinione e quindi non ci sono condizionamenti promozionali pubblicitari all'interno di questo video dopo una fase di rodaggio e un ascolto approfondito posso oggi dare la mia opinione credo abbastanza plausibile e in parte devo fare l'avvocato del diavolo a favore dei detrattori perché questa è una cuffia tutt'altro che semplice da gestire si tratta di una cuffia assolutamente di nobile lignaggio e quindi ha tutta una serie di atteggiamenti se vogliamo anche un po schizzinosi verso il mondo che la circonda innanzitutto un lungo e accurato rodaggio che nel mio caso si è tradotto in 48 ore di rumore rosa ininterrotte rumore rosa generato dal mio mixer professionale successivamente altre 24 ore di programma musicale dinamico utilizzando banalmente un cd in repeat e quindi tre giorni pieni dedicati al rodaggio io l'avevo sentita prima di questo rodaggio e dopo e vi garantisco che c'è un salto importante su tutti i parametri ovviamente favorevole ed educo visto questo cambiamento in un rodaggio si lungo si accurato ma ancora non clamoroso che probabilmente questa cuffia avrà un margine di crescita ulteriore presumo nei prossimi tre mesi di utilizzo standard quindi questo è un primo parametro tale per cui chi dice l'ho portata a casa l'ho ascoltato non mi è piaciuta l'ho restituita beh forse ha fatto un errore perché appunto non si tratta di una cuffia che si può giudicare appena scartata per così dire altro elemento fondamentale fondamentale attenzione sottolineo fondamentale è come questa cuffia viene pilotata questa è una cuffia idiosincratica è una cuffia innanzitutto di medio alta impedenza 300 ohm e di sensibilità non proprio eccelsa quindi se voi pensate di poter collegare questa cuffia a i classici device tipo telefonino oppure anche alle uscite cuffia magari un po più raffinate del lettore cd piuttosto che bene dimenticatevelo perché questa cuffia letteralmente snobba questo tipo di pilotaggio si tratta di un oggetto che ha bisogno di amplificatori dedicati e di alta qualità alta potenza e alta qualità e possibilmente possibilmente in grado di gestire l'impedenza d'uscita l'impedenza d'uscita in una cuffia è molto più importante di quanto si possa immaginare e non solo e non tanto per il volume d'ascolto ma anche proprio per il corretto interfaccia acustico di questa cuffia io dispongo come forse alcuni sanno di due ampli cuffie di riferimento che ho da una vita costruiti su mie indicazioni di specifica per così dire dall'amico ricordo ceolina della ditta otl di padova e questi due amplificatori complessivamente mi offrono sei uscite caratterizzate ciascuna da un'impedenza d'uscita specifica da me richiesta e quindi io ho richiesto i 25 ohm i 120 ohm i 300 ohm e i 600 ohm ecco sembrerà una banalità ma collegando questa cuffia all'uscita con impedenza di 300 ohm si ottengono ovviamente i risultati migliori dicevo problema anche un po di sensibilità non è proprio sorda questa cuffia però sicuramente ha bisogno di potenza e di potenza dinamica e di conseguenza è anche importante identificare il corretto volume d'ascolto che non può essere un volume basso deve essere il volume giusto che non vuol dire nemmeno il volume troppo alto a cui ad esempio certi ragazzotti sono abituati oggi ad ascoltare in cuffia quindi altro lavoro importante per ciascun disco cercare di identificare il volume più corretto è una cuffia che correttamente pilotata ama la grande dinamica maggiore è la dinamica del programma sonoro che si va a proporre a questa cuffia correttamente pilotata da un amplificatore di generosa potenza maggiore il godimento finale e proprio per questa sua capacità trasparente di fotografare il programma musicale che le viene proposto nel caso si cerchi di ascoltare musica ad esempio troppo compressa il risultato sarà veramente disastroso ecco perché ad esempio sento dire che questa cuffia non ha bassi probabilmente e andando a leggere i profili e le caratteristiche d'ascolto di chi propone questa critica capisco subito di cosa si tratta di persone che cercano ad esempio di ascoltare un rock o un pop di ultima generazione molto compresso molto spinto e ovviamente si ritrovano al cospetto di una cuffia che denuncia immediatamente la tipologia di registrazione le caratteristiche del suono che in questa registrazione sono proposte quindi spesso ad esempio un basso ridicolo magari pompato sui 120 hertz ma in realtà inesistente al di sotto di questa frequenza insomma tutte quelle caratteristiche tipiche dei programmi musicali pop non classici che oggi vengono proposte agli ascoltatori quindi certamente questa è una cuffia che non ama quel genere musicale allora che genere musicale ama evidentemente la grande musica classica evidentemente il grande jazz evidentemente la grande musica acustica correttamente registrata per la mia prova io ho utilizzato esclusivamente miei dischi dischi prodotti da velutluna registrati da me di cui conosco ogni più piccolo dettaglio e un solo disco non prodotto da me un disco del cuore per me quello che io ritengo rappresentare una delle migliori registrazioni musica classica in assoluto di tutti i tempi probabilmente lo pongo al primo posto alla pari con il mitico leggendario concerto live di john williams alla testa dei wiener philharmoniker di qualche anno fa ecco questi due dischi quello di john williams e questo meraviglioso disco che presenta le suite di rhodion shedrin dirette da mikhael platnev con l'orchestra nazionale russa veramente un disco di riferimento assoluto in particolare per quanto riguarda gli archi infatti tutta la prima parte di questo disco presenta questa spettacolare trascrizione di shedrin della suite della carmen di bizet per orchestra d'archi e percussioni è qualcosa di meraviglioso una dinamica come rarissime volte capita di sentire e soprattutto una fedeltà timbrica nella ripresa degli archi e infine una ambientazione prospettica spettacolare all'interno di questo teatro quindi una registrazione imperdibile che poi si va a completare anche con l'orchestra ad organico pieno quindi anche con i fiati nei due concerti per orchestra il numero uno e il numero due che arrivano dopo la carmen suite ebbene in questo caso gli archi in particolare sono proposti in un modo delizioso una fedeltà timbrica veramente impressionante e appunto la dinamica tutta la dinamica reale il fatto poi di ascoltare in cuffia quindi in un ascolto sostanzialmente non condizionato dall'ambiente e anche dai rumori ambientali consente di apprezzare i pianissimi iniziali della prima traccia che sono dei pianissimi veramente quasi inavvertibili come forse con nessun sistema aperto di diffusori è possibile questa sensazione che queste cuffie amino in modo sconsiderato gli archi mi è confermata dall'ascolto invece di quest'altro mio disco mingus world che è un disco meraviglioso da me ripreso dal vivo rigorosamente dal vivo con un decatree composto dai favolosi microfoni ribera r12 e che presenta come interpreti maria vicentini al violino e alla viola alternativamente e salvatore maiore al violoncello e al contrabbasso alternativamente ecco in questo caso vabbè la natura di questi quattro strumenti è proprio naturalmente proposta cioè non c'è nessun dubbio quando maria suona la viola e invece quando suona il violino nel capire che sta suonando la viola e il violino anche da parte dell'ignorante per così dire a maggior ragione e ancora di più quando salvatore suona il violoncello il contrabbasso poi questi due interpreti meravigliosi se vogliamo a cavallo fra il mondo del jazz e della musica classica quindi abbiamo queste musiche famosissime di charles mingus da loro trascritte per questo particolare organico dicevo ci propongono una serie di suoni con l'archetto pizzicati stoppati afoni armonici e chi più ne ha più ne metta ebbene tutta questa ricchezza incredibile di suono offerta da questo disco che vi invito se non lo conoscete di andare a scoprirlo magari su spotify e poi comprarvi il cd o il file hd che ovviamente sono disponibili sul nostro sito online www.referencemusicstore.com dicevo è veramente una cartina tornasole incredibile incredibile per la qualità di questa cuffia una critica ripeto l'ho già detto ma lo sottolineo che viene fatta a queste cuffie è relativamente ai bassi addirittura qualcuno dice o che non abbassi o che abbassi confusi insomma io sono veramente esterefatto perché invece ho notato esattamente il contrario la gamma bassa di questa cuffia è quella veramente dell'eccellenza assoluta e la conferma mi viene data per l'appunto ad esempio dalla riproduzione del contrabbasso delle percussioni d'orchestra tipo la gran cassa ma poi il test più impegnativo di tutti ovvero l'organo il grande organo in questo caso organ wars l'incredibile disco che ho realizzato ormai cinque anni fa con alla tastiera raimondo mazzonna questo giovane straordinario interprete sugli arrangiamenti originali fabrizio castania delle musiche più spettacolari di john williams in questo caso l'organo utilizzato non è il classico organo da chiesa ma è un gigantesco organo masioni residente all'interno dell'auditorium pollini di padova quindi con un'acustica più asciutta in grado di valorizzare e disegnare millimetricamente innanzitutto la struttura dell'organo che occupa in larghezza tutto il palco del teatro ma anche la grande precisione timbrica dell'emissione dai 16 hertz fino agli armonici più alti che arrivano ben oltre i 30 mila hertz ebbene i bassi le grandi canne di questo organo che propongono bassi articolati definiti ma soprattutto profondissimi vengono riproposte con una naturalezza e una dinamica disarmanti da queste cuffie cioè proprio senti la membrana che gode per così dire è passato in questo termine un po volgare e quindi mi dispiace per chi non sa apprezzare i bassi forse il boom boom di certo pop effettivamente non rende bene con queste cuffie già che loro da parte loro non fanno altro che dirti quanto male è fatta la registrazione che gli stai proponendo quindi è forse proprio nella gamma bassa che esprime il meglio assoluto l'unica riserva che io poi ho notato anche andando ad ascoltare ad esempio quest'altro disco meraviglioso il primo volume del clavicembalo bentemperato interpretato da Nicola Lamont grandissimo interprete quindi questo gigantesco clavicello siberman dotato ovviamente di una risposta in basso come pochi altri violoncelli io ho sentito e qui ovviamente valorizzata alla grande dalle cuffie ma forse ho notato un leggerissimo leggerissimo velo in gamma medio alta attenzione non in gamba altissima che estesissima ma proprio forse la gamma medio alta appena un po arretrata situazione che poi ho ritrovato anche nell'ascolto ad esempio della meravigliosa voce femminile di giuditta franco presente in questo stupendo arretrato brasileiro di cui parleremo più diffusamente e anzi torneremo a parlare più diffusamente nel prossimo video ma intanto dicevo sento quella mancanza di forse leggero dettaglio che mi piacerebbe sentire perché so essere presente nella registrazione stesso discorso infine per quest'altro disco ancora inedito e di cui invece parleremo la settimana prossima gira l'anima con la meravigliosa voce di tiziana cappellino e la cristallina chitarra acustica cristallina ma non aggressiva di pietro ballestrero e allora dicevo vabbè è evidente che nessuno è perfetto in questo mondo e quindi avevo inizialmente accettato questa piccola defiance che del resto per una cuffia da 400 euro più iva può anche restarci che non sia assolutamente perfetta però poi mi è venuto un dubbio perché ci sono infatti due critiche vere importanti che io voglio proporre per questo prodotto e la prima critica va al cavo con cui arriva anzi i cavi perché in realtà loro per sovrabbondanza propongono tutte le combinazioni possibili dal cavo bilanciato ma cavi veramente scadenti è un cavo che appena l'ho visto ho detto boh ma è possibile che una cuffia così possa funzionare con un cavo di questo tipo quindi proprio anche in funzione questa prova e purtroppo affidandomi alla velocità di consegna del ben noto sito online sono andato a scegliermi un po a caso in base alle caratteristiche descritte un cavo fra virgolette speciale un cavo dedicato a questa serie della Sennheiser da un costruttore presumibilmente orientale un cavo particolare intrecciato insomma lo state vedendo in queste immagini che stanno passando ora è caratterizzato da filo ofc dorato di particolare qualità così come indica per l'appunto la descrizione 45 euro quindi assolutamente un valore superiore al 10 per cento del valore della cuffia ma che in questo caso ho ritenuto probabilmente adeguato è stato un po un salto nel vuoto non avendolo potuto provare prima fatto sta che poi quando è arrivato questo cavo l'ho sostituito e ho collegato la cuffia all'amplio TL magia magia nel senso che immediatamente mantenendo inalterata la bellezza in tutta la gamma timbrica di cui ho parlato finora è in particolare la ricchezza la profondità e tutto il bene che ho descritto relativamente al basso ebbene questa leggerissima velatura in gamma medio alta sparisce sparisce e porta veramente questa cuffia ad un livello superiore di qualità proposta quindi altro elemento che mi permetto di suggerire altra azione per chi decide di comprare questa cuffia e di cambiare il cavo ripeto non serve spendere cifre folli questa che ho speso io i 45 euro il 10 per cento del valore della cuffia è veramente la soglia invalicabile però assolutamente ripeto più che sufficiente e più che sufficiente ripeto non con il cavo esoterico comprato qua fatto la bim bum bam ma con un cavo orientale comunque di grande serie ed acquistato sul ben noto sito online quindi chiaramente questo è il mio consiglio non esageriamo adesso col delirio da cavi che costano più della cuffia perché evidentemente non ha alcun senso a questo punto parliamo del confronto con i miei riferimenti allora il confronto con il mio riferimento assoluto che è la bayern dynamic t1 mark 2 la vede evidentemente sconfitta e mi sarei molto preoccupato se così non fosse infatti parliamo di una cuffia prezzo al pubblico circa 500 euro la sennheiser e una t1 prezzo al pubblico street price all'epoca in cui venne presentata 1.100 euro circa quindi più del doppio quindi ovviamente va meglio ma non con una progressione geometrica evidentemente mi spiego da un punto di vista timbrico le due cuffie si equivalgono perché la verità è una sola e quindi se un oggetto tende alla verità e la verità è una non può essere che coincidente dove mette la sesta marcia la t1 evidentemente è nella ricostruzione prospettica infatti la capacità incredibile che ha la t1 di darti un'immagine quasi frontale anche senza utilizzare i circuiti di cross feed è veramente impressionante e di conseguenza anche una generale ricostruzione ambientale quindi non solo frontale ma generalmente alla ricostruzione ambientale dell'ambiente acustico favorito anche dal fatto che la t1 è una cuffia semi aperto semi chiusa a seconda dei punti di vista e quindi riesce a creare grazie anche al posizionamento particolare degli auricolari all'interno dei padiglioni un ambiente una ricostruzione ad ambiente veramente importante significativa cosa che evidentemente la sennheiser cuffia puramente e completamente aperta anzi apertissima ha meno facilità da questo punto di vista c'è comunque una discreta ricostruzione dell'immagine sonora ma manca la ricostruzione perfettamente frontale come invece fa la t1 ovviamente se questa sennheiser la pilotate con un ampli cuffie caratterizzato appunto da questi circuiti di cross feed ecco che magia tutto questo si riesce ad ottenere anche con la sennheiser nel mio caso il test l'ho fatto con l'ampli cuffie integrato all'interno del mio control room professionale grace m905 il quale è un buon ampli cuffie ma non ha la qualità la ricchezza armonica degli otl ha però il circuito di cross feed quindi dove immediatamente la cuffia perché come dicevo questa sennheiser è molto selettiva molto idiosincratica cala immediatamente nella prestazione timbrica e dinamica pilotata dal grace guadagna però dal punto di vista dell'immagine frontale utilizzando il circuito di cross feed un altro trucchetto se uno vuole acquistare questa cuffia ma ha pensato di aver già speso molti soldi e non vuole spendere soldi per il cavo è di pilotarla di pilotarla sballando le impendenze cioè utilizzando sempre un amplificatore esterno e di potenza importante ma magari con un'impedenza d'uscita molto bassa io questo test l'ho fatto con curiosità e inizialmente un po di scetticismo con un mio amplificatore da combattimento il rolls ra 53b amplificatore da 200 euro quindi nemmeno costoso molto potente ma appunto con un'impedenza fissa 35 ohm ebbene la cuffia automaticamente perde un po della sua ricchezza in basso perde soprattutto in termini di profondità e di immanenza mantiene ovviamente l'articolazione ma guadagna in gamma medio alta quindi l'opzione è magari se voi non avete un ampli cuffie vi tenete questa cuffia con il suo cavo discutibile e spendete una cifra assolutamente ragionevole per la ra 53b della rolls prodotto americano professionale e trovate un mix secondo me che è un buon compromesso globale io dispongo di altri due ampli cuffie di assoluto riferimento con cui però non ho potuto ancora fare il test si tratta del meraviglioso e recentissimo ampli cuffie prodotto dal mio amico Pier Giorgio Levorato il Level amplificatore veramente spettacolare e il mio storico Tascam MH40 anche questo modificato dall'amico Levorato ne ho già parlato delle modifiche sono state fatte ecco questi due amplificatori sono per me molto importanti ma sono in Italia e sono stabilmente in Italia il Tascam fa parte del mio impianto di registrazione che è fisso in Italia mentre l'ampli cuffie di Levorato è al momento l'ampli che utilizziamo nelle manifestazioni fieristiche per cui anche questo è in Italia quindi mi riservo prossimamente di fare degli ascolti con questi due straordinari ampli cuffie e sarà l'occasione magari di tornare a parlare di questa Sennheiser 660 S2 fra magari sei mesi a completo e definitivo rodaggio compiuto e sono sicuro che succederanno delle cose ho parlato del primo difetto di questo prodotto il cavo a mio parere ma il secondo è veramente inaccettabile è questa cosa qua questo straccetto che vedete questo straccetto nero è la custodia con cui viene proposta una cuffia da 500 euro al pubblico è scandaloso io vi dico solo che la DT 880 altra cuffia da me amatissima che costa la metà rispetto alla Sennheiser viene proposta con questa custodia meravigliosa imbottitura interna intendo dire costa la metà e questa comunque è una custodia adeguata ad un prodotto di questo tipo questo straccetto è inaccettabile per cui vedete cosa faccio io di questo straccetto lo butto lo butto non me ne faccio niente e questa è una critica dura che io faccio alla Sennheiser perché è inaccettabile che propongano un oggetto di questo tipo con un contenitore come quello e non parlo poi di andare invece magari addirittura a un contenitore rigido come questo che è il meraviglioso contenitore della T1 Mark II ecco io non pretendo un contenitore rigido di questa qualità ma almeno quello che vi ho fatto vedere della 280 è assolutamente proprio il minimo sindacale per una cuffia come la Sennheiser e quindi quando bisogna dire le cose bisogna dirle e sottolinearle voi direte hai parlato del confronto con la T1 ma adesso hai tirato in ballo la DT880 che costa la metà e io aggiungo anche la DT990 che sono le altre due cuffie che io utilizzo normalmente in fase produttiva poi ce ne sono altre che io utilizzo però cerchiamo di focalizzarci perché sennò il video durerebbe all'infinito e qui giochiamo proprio sulle fasce di prezzo ebbene all'inizio ho detto che il prezzo a cui viene proposta questa Sennheiser è il più alto possibile per questa sua categoria e fascia di prezzo infatti come dicevo poc'anzi la DT880 che è un'altra cuffia assolutamente per me di riferimento è una T1 in piccolo è la cuffia che si va a confrontare direttamente con la Sennheiser anche nel caso della DT880 abbiamo una configurazione semi aperto semi chiusa che consente la creazione di un ambiente interno per cui una ricostruzione ambientale potenzialmente superiore in realtà è analoga è inferiore a quella della T1 ma è analoga dal punto di vista timbrico la DT880 è naturalmente un po' più brillante in gamma medio alta mi porta a sostenere che dal punto di vista timbrico la Sennheiser sia un felino più fedele soprattutto utilizzando il cavo non di serie da questo punto di vista c'è poco da fare sia per la sua caratterizzazione di cuffia aperta sia per le caratteristiche evidentemente progettuali e costruttive questa Sennheiser è quanto di più vicino ad un'elettrostatica si possa immaginare io penso alla mia gloriosa Stax Lambda Classic ovviamente lì siamo su un'altra categoria ancora una volta però ci sono dei parallelismi che si possono fare quindi diciamo che la coperta leggermente corta si tira un po' più da una parte nel caso della Bayer un po' di più nel caso della Sennheiser da un'altra parte diciamo che sono due cuffie equivalenti con una leggera preferenza verso la Sennheiser certamente lo street price di una DT 880 è ripeto circa la metà del Sennheiser e quindi questa è una cosa da considerare al momento dell'acquisto e nei confronti della DT 990 invece c'è una vittoria abbastanza netta da parte della Sennheiser dal punto di vista timbrico la DT 990 infatti ha una brillantezza veramente eccessiva e il basso non è controllatissimo quindi da questo punto di vista la Sennheiser la sopravanza decisamente la DT 990 ripeto è una cuffia anche questa che si attesta attorno ai 180-200 euro per cui da questo punto di vista la differenza di prezzo a favore della Sennheiser c'è tutta nel caso della 880 invece ha una spina nel fianco importante perché la DT 880 è una cuffia ripeto sostanzialmente equivalente ma che costa la metà naturalmente poi scatta il gusto il piacere d'ascolto ripeto come riproduce gli archi la Sennheiser la DT 880 purtroppo non ci riesce quindi da questo punto di vista è superiore dal punto di vista ad esempio dell'utilizzo con rock attenzione il rock quello bello quello dinamico il rock degli anni 70 la DT 880 guadagna punti grazie appunto anche alla sua configurazione di semi chiuse per cui insomma è un discorso delicato e dove sempre considerando questo gap del prezzo ciascuno deve fare le proprie considerazioni in funzione di quello che ascolta prevalentemente io direi che penso di poter concludere qui questa lunga disamina che ho voluto proporre di questa cuffia assolutamente importante e che va assolutamente compresa va assolutamente messa nella condizione di lavorare al meglio possibile ed è una cura importante e nel momento in cui la portate a casa dovete anche considerare questa fase di rodaggio significativa prima di poter esprimere un giudizio anche solo iniziale come in qualche modo sto facendo io e infatti vi garantisco che fra sei mesi io tornerò a parlare di questa cuffia dopo averla anche ascoltata con gli altri due miei amplificatori di riferimento il Level e il Tascam e soprattutto dopo sei mesi di uso quotidiano e comune intanto vi lascio all'ascolto finale che evidentemente sarà ricavato da uno dei dischi di cui ho parlato e che ho valutato ascoltandoli con questa cuffia Sennheiser HD 660 S2 e in particolare ho scelto il meraviglioso primo movimento del clavicembalo ben temperato di Bach suonato dal grandissimo Nicola Lamont un disco di clavicembalo di riferimento assoluto e questo a detta dello stesso Nicola Lamont per quanto riguarda il suono dice lui e per quanto riguarda la musica dico io buon ascolto e inevitabilmente inesorabilmente come sempre that's all folks musica 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.